bentornati a patchwork ciao da valentina oggi proviamo a realizzare un sottopentola con le mollette di legno come primo passaggio dobbiamo prendere le mollette di legno e dividerle a metà in questo modo ne servono circa 25 per fare un sottopentola normale quindi le dividiamo e le prepariamo prossimo passaggio ogni coppia di molletta va incollata sul dorso in questo modo incollate le nostre mollette adesso passiamo ad incollare le punte di ogni coppia l'una con l'altra in questo modo questo è il nostro sottopentole ultimato voi lo potete comunque decorare come più vi piace provateci anche voi per abbellire le vostre cucine vi aspetto alla prossima puntata di patchwork ciao da valentina